Oggi scopriamo la Falda Achea, un dolce tipico del territorio. Siamo a Turi, siamo da Dolciaria Aurelia e veniamo a conoscere Anna Maria e Stella Verna che producono con tanto amore, producono e confezionano la Falda Achea. Scopriamo immediatamente di che cosa si tratta. Siamo dalla Dolciaria Aurelia con le sorelle Verna in questo mondo bellissimo pieno di colori fatto di mandorle, di profumo di mandorle e parliamo prima di tutto di questa Falda Achea. Che cos'è la Falda Achea o meglio da dove nasce, le origini storiche? Partiamo da Anna Maria. La Falda Achea ha le origini molto antiche, si parla dell'inizio del 1800, delle suore che hanno cominciato a fare questo dolce e l'hanno chiamato Falda Achea, forse perché è un dolce farcito e ripieno e quindi forse è questo l'origine del nome. A Stella invece chiediamo che cos'è, come viene fatta questa pasta di mandorla perché abbiamo visto tutto il procedimento di preparazione di questo dolce. Appunto è un dolce di pasta reale, di mandorla, lavorato con i torri d'uovo e questa pasta poi viene data una forma a seconda dell'occasione. È dentro, è farcita di amarena e di pan di spagna e poi viene glassata di cioccolato bianco oppure di glassa di zucchero oppure di cioccolato nero. A seconda dell'occasione, a seconda della richiesta del cliente. Questa è un'attività che parte, diciamo, da, voi siete la seconda generazione, parte da vostra madre, giusto? Sì, mamma ha cominciato all'inizio degli anni 70, ha cominciato a fare i dolcetti in casa con i vicini, ha cominciato e poi siccome era abbastanza brava ha inoltrato questo lavoro e voglio dire che è stata la prima dolciaria ad aprire un negozio, un'attività che vende solo dolci di mandorla e quindi noi siamo fieri di mamma che ha cominciato questa attività e noi abbiamo comunque proseguito in una maniera un po' più moderna, più bella, secondo me. Un'attività pienamente artigianale, fatta tutta con le mani, non abbiamo visto stampi, giusto? E credo che siete tra i pochi a fare questo. Sì, sì, infatti. Noi accontriamo tutte le esigenze dei nostri clienti, addirittura scriviamo il nome completo a seconda occasione, l'iniziale degli sposi su quei ricini di faldacchea, i colori del loro matrimonio, insomma facciamo di tutto per renderli insomma felici. Questo è un tipo di dolce che c'è tutto l'anno perché le mandorle riuscite a conservarle e a trattarle? Sì, le mandorle comunque sono sempre presenti, come hai detto, perché rimangono con il guscio durante tutto l'anno, poi vengono schiacciate a seconda della richiesta. Noi preferiamo comprare del frutto locale, ci sono delle qualità molto famose, tra cui la filipocea, la genco, la caputo, la tuono, ci sono diversi tipi di mandorle, però sono locali, preferiamo comprare questo frutto perché ha un sapore più buono, dà quel sapore di terra nostra. Bellissimo questo, terra nostra. Il mercato di riferimento, soprattutto matrimonio? Sì, matrimonio, comunioni, battessimi, anche per una cena così di lavoro, una cena tra amici e il dolce di mandorle è un dolce molto richiesto. Vi è capitato di avere a che fare con gli stranieri? Mi immagino un po' insomma uno straniero o anche una persona del nord. Sì, specialmente ad agosto che è un mese dove qui si vedono tutti i tipi di stranieri, e apprezzano molto il nostro prodotto, però purtroppo è un prodotto molto delicato, quindi per esportarlo bisogna essere un po' cauti, diciamo, perché è molto delicato, sì particolare. Abbiamo visto le diverse fasi di preparazione del prodotto, ce lo vuole un po' alencare Anna Maria? Sì, allora le mandorle vengono bollite e vengono sgusciate da noi personalmente, vengono tritate e quindi vengono lavorate. Come vediamo c'è dell'acqua e dello zucchero che vengono sciolti e dove viene amalgamata la pasta di mandorla con limone e cannella. Per la falda chea usiamo i tuorli delle uova, invece se vogliamo fare la pasta reale semplice non usiamo i tuorli d'uovo. Quindi sono due dolci di mandorla, sicuramente reali buonissimi, però hanno questa differenza che la falda chea è lavorata con i tuorli delle uova, la pasta reale no. E anche perché, come abbiamo detto prima, la falda chea è ripiena e farcita di panno di spagna marina. Abbiamo visto che con la pasta reale vi siete sbizzarriti con una serie diversa di decorazioni, ce lo puoi raccontare? Sì, allora con la pasta reale semplice noi realizziamo semplicemente a mano, tutto a mano, delle formette particolari, carine, sfiziose, tipo la scarpetta, lo scarponcino, la fragola, la pera, il funghetto, la casa di bosco, i datteri, i moretti, eccetera, eccetera. Abbiamo tante forme e poi le decoriamo a seconda locazione con della ghiaccia colorata, con del cioccolato colorato, con dei fiocchetti, eccetera, eccetera. Ma al momento poi ci viene la fantasia al momento. Invece la falda chea rimane sempre quella forma e quella particolarità? No, no, perché la falda chea è più indicata per i matrimoni, per esempio la facciamo a forma di cuore, a forma di cuore, a forma di foglia, di calla, anche per la nascita a forma di scarponcino rosa o celeste, coccinella per i laureati, la coccinella rossa. Insomma, a seconda locazione, ripeto, il cliente richiede quello che a secondo delle sue necessità e noi le realizziamo, tutto semplicemente a mano. Esiste un sogno nel cassetto di questa attività? Sicuramente, ce l'ho chiuso nel cassetto da quando avevo 16 anni, far diventare famoso il nome di Aurelia e quindi tutti i suoi prodotti artigianali in tutto il mondo. Aurelia e quindi tutti i suoi prodotti artigianali in tutto il mondo. Aurelia e quindi tutti i suoi prodotti artigianali in tutto il mondo.